Un caloroso saluto a tutti. Qui è Lorenzo Grandi che vi parla, proprietario del sito benessereipnosi.com. Per ottenere benefici, questi audio vanno ascoltati tre volte al giorno, tutti i giorni. Se vuoi scoprire di più e ancora non hai letto l'articolo, clicca nel link che trovi in descrizione o nella i in alto a destra. Inoltre, troverai tutte le informazioni necessarie e link ad altri audio simili a questo. Preghiera. Irradio tutto l'amore possibile. L'amore fluisce adesso attraverso me. Sono circondato dalla pace e tutto va bene. L'amore mi circonda e mi copre. Questo amore infinito si stabilisce nel mio cuore e nel mio essere. Irradio amore nel pensiero, parola e lavoro. L'amore significa allegria, pace e libertà. L'amore è libertà. Apre la porta della ricchezza e la felicità. Irradio amore verso tutti. So perfettamente che l'amore mi dà salute, ricchezza e felicità. L'amore è un principio essenziale in me. Attrai nella mia vita esperienze, relazioni perfette e in armonia. L'amore fluisce adesso attraverso me. Sono circondato dalla pace e tutto va bene. L'amore mi circonda e mi copre. Questo amore infinito si stabilisce nel mio cuore e nel mio essere. Irradio amore nel pensiero, parola e lavoro. L'amore significa allegria, pace e libertà. L'amore è libertà. Apre la porta della ricchezza e la felicità. Irradio amore verso tutti. So perfettamente che l'amore mi dà salute, ricchezza e felicità. L'amore è un principio essenziale in me. Attrai nella mia vita esperienze, relazioni perfette e in armonia.